Il mio compito principale sia quello di non abbassare assolutamente la guardia e di continuare su questi livelli. Questo ci comporta come sto cominciando a dire ai miei collaboratori anche sulla base dei loro suggerimenti perché sono sempre molto attento nel seguire le indicazioni che i miei collaboratori, gli spunti investigativi che i miei collaboratori offrono comporta che chiaramente gli approfondimenti saranno rivolti a tutte le realtà che interagiscono su questo territorio dalla persona fisica a quella alle principali aziende, i principali imprenditori che lavorano su questo territorio. Il livello di organizzazione proprio sul territorio dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Teramo ritiene comunque adeguato anche il personale a disposizione? Sicuramente gli organici sono tarati sui livelli e sui obiettivi che ci prefiggiamo. Abbiamo un normale turnover che è rappresentato dagli avvicendamenti che avverranno nei prossimi periodi tra personale più anziano che si avvia al congedo avendo raggiunto i limiti d'età e personale che sarà integrato a seguito dei numerosi concorsi che l'Arma dei Carabinieri ha indetto negli ultimi anni per cui riceveremo anche carabinieri giovani che ci daranno nuova energia per affrontare questa sfida. L'esperienza che mi ricorda con piacere in questi anni? Chiaramente ho affrontato diverse realtà territoriali sia da un punto di vista nazionale che da un punto di vista internazionale mi sono confrontato anche nei territori campani, siciliani in particolare devo dire che lì ho trovato l'Arma che ha fomentato il mio ardore giovanile per l'arruolamento quindi ho trovato i veri valori che mi aspettavo di trovare che mi hanno dato grande entusiasmo lavorativo e tecnico-personale. Ho consolidato queste esperienze portandole possibilmente al centro sono reduce da nove anni di permanenza presso il comando generale dell'Arma dove chiaramente i compiti che mi venivano affidati sono stati ben diversi non di carattere operativo ma di carattere organizzativo.